Nella sala riunioni della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano c'era una parte del gota degli industriali, in particolare di quelle decotte. Il ministro Urso, in una visita di poco più di 24 ore nel mordi e fuggi di una campagna elettorale sempre più agguerrita, è giunto a Cagliari passando per il Sulcis come tutti i suoi predecessori, nessuno escluso. Il bacino del Sulcis è una grande area in cui il lavoro è praticamente assente e da decenni va avanti un sostentamento fatto di agevolazioni fiscali, finanziamenti di Stato che tiene in piedi alcune aziende che non producono più nulla da tempo. Così, dopo gli annunci del ministro Tegliastanti, intervenuto rompendo il ghiaccio, l'amministratore delegato di Sider Alloid, Giuseppe Mannina, che ha denunciato l'impossibilità di riprendere a produrre alluminio per le mancate risposte delle istituzioni. Dal 2018 la sua azienda, dichiara Mannino, eroga stipendi per i lavoratori di un impianto che non produce un grammo di alluminio, pur essendo egli consapevole che esistono grandi potenzialità di ampio successo in Europa. E per questo, in un silenzio tombale, ha dichiarato espressamente al ministro che se non arriveranno risposte in tempi celeri, si vedrà costretto a mettere in cassa integrazione tutti i lavoratori da qui a una settimana. E' un annuncio che faccio, se continuo così, da qui a una settimana io sarò costretto a mettere in cassa integrazione il 100% dei miei dipendenti. Meno forti le richieste dell'amministratore delegato di Euroallumina, Vincenzo Rosino, e quelle di Davide Garofalo, dei Portovesme SRL. Ma tutti hanno richiesto l'intervento dello Stato in misura di agevolazioni fiscali, sconti energetici e detassazioni di vario tipo. Qui ovviamente, senza che nessuno l'abbia espresso, rientrano anche quelle di natura ambientale.